Salve a tutti, io sono Simone Righi, ricercatore all'Università di Bologna e sono il docente di questo mini corso sul linguaggio di typesetting LaTeX. LaTeX è appunto un linguaggio che è utilizzato per la composizione tipografica e serve per la preparazione di documenti di tipo professionale, documenti appunto e presentazioni. I documenti e presentazioni con LaTeX possono essere realizzati attraverso l'inserimento in un documento di test di determinati comandi di cui scoprirete seguendo questo corso e attraverso la compilazione del documento di testo con i tag così inseriti. Il corso, questo mini corso, si compone di quattro lezioni e ciascuna delle lezioni è divisa in tre sezioni di circa un quarto d'ora l'una. Durante queste lezioni, durante queste sezioni io presenterò il corso attraverso l'utilizzo di slide e voi potete o seguire la mia presentazione oppure provare i comandi che io presento attraverso l'utilizzo di tutorial che sono allegati a ciascuna sezione di ciascuna lezione. Al termine della lezione, al termine di ciascuna lezione è possibile poi realizzare un esercizio di autocomprensione, di autovalutazione che vi permetterà di comprendere se avete capito i contenuti della lezione, se sapete utilizzarli nel contesto del linguaggio di tagging LaTeX. Per ognuna di queste esercitazioni ovviamente viene data anche la soluzione, che non è altro che il documento che io ho utilizzato per creare l'esercitazione. E infine, per gli studenti che vogliono tenere l'attestato di partecipazione, ci sono disponibili per ciascuna lezione una serie di 10 domande a risposta multipla, di cui viene richiesto di rispondere correttamente ad almeno 7 di esse per poter ricevere l'attestato di partecipazione. Spero che partecipiate numerosi a questo corso e vi ringrazio per l'attenzione. a questo corso e vi ringrazio per l'attenzione. grazie. grazie.